Il suo è un grido solitario ma che sicuramente intercetterà il disagio e l'allarme di altri suoi colleghi. È l'imprenditore agricolo Demi Bonini a lanciare il grido disperato attraverso Coldiretti perché il 70% del suo raccolto di mais è andato perso, mangiato o distrutto da vere e propri branchi di cinghiali, torme di 40 o 50 animali che hanno fatto manbassa di cereali nei campi della sua azienda, il castellare a Monte San Savino. Produco, afferma Bonini o meglio vorrei produrre uva, olio, cereali nei miei circa 30 ettari di terra ma non so se avrò ancora la forza di andare avanti. Per salvare almeno l'uva ha dovuto mettere in campo una costosissima recinzione elettrosaldata ma i cinghiali riescono spesso a passare. Non mi interessa, dice ancora, avere rimborsi per i danni visto che poi sono anche sempre in ritardo e non certo adeguati. Vorrei essere messo nelle condizioni di coltivare in pace come accadeva qualche anno fa, quando la densità degli animali selvatici era ancora ragionevole e sapevamo di perdere un 4 o 5 per cento del raccolto. È una battaglia, questa spiega a sua volta il direttore di Coldiretti Arezzo, Giampiero Marotta, che Coldiretti ha fatto senz'altro propria, sollecitando le istituzioni ad affrontare il problema, trovando le soluzioni più efficaci in tempi rapidi, tenendo conto che ogni giorno i cinghiali e gli altri ungulati si mangiano oltre 10.000 euro di colture agricole toscane.